Ok, vediamo quindi un paio di esercizi che sono alla fine delle slide del corso, che vanno sotto questo titolo, diciamo così, un po' pauroso, strutture dati complesse, quanto saranno mai complesse, e li vediamo come esercizi. Visto che gli altri esercizi di simile esame li ho condivisi solamente questa mattina, vi lascio un po' di tempo e invece questi altri, alcuni di questi, chiaramente li risolviamo invece domani, nelle ore di domani e poi anche chiaramente nelle ore che rimarranno a gennaio. Ok, quindi prevedo di usare sei ore circa, quattro blocchi, un'ora e mezza per risolvere questi esercizi di esame, poi ne aggiungeremo ancora altri e poi un'ora e mezza di quelle che rimangono per svolgere invece esercizi di teoria, che in tutto sommato si fa più in fretta, anche perché sono anche più ripetitivi. Ok, strutture dati complesse che cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà noi abbiamo visto finora una certa serie di strutture dati in Python, che sono quelle di base, cioè liste, stringhe, anzi partiamo dalle stringhe, liste, poi siamo arrivati a vedere gli insiemi, siamo arrivati a vedere i dizionari, siamo arrivati a vedere i file, e questo l'abbiamo studiato capitolo per capitolo ogni singola struttura dati. Nei problemi più complicati, più realistici, statistici, magari i dati che abbiamo a disposizione non si prestano immediatamente a essere rappresentati o come un dizionario, o come un insieme, o come una vista. E quindi bisognerà reinventarci delle combinazioni delle strutture dati che conosciamo. Quindi, di fatto, non abbiamo delle strutture dati nuove da imparare adesso all'ultima lezione, infatti anche perché vi ho detto che sono finiti gli argomenti, ma dobbiamo imparare a combinare tra di loro le strutture dati che conosciamo per costruire una rappresentazione dei dati che sia il più possibile utile in funzione dei dati che dobbiamo rappresentare e funzionale al tipo di algoritmo che dobbiamo implementare. Questo si basa sul fatto che una qualunque lista, un qualunque dizionario, in particolare il dizionario nel campo valore, non nella chiave, possono contenere qualunque tipo di dato, compresi dati che a loro volta siano dei contenitori. Quindi noi abbiamo già visto che si può fare una lista di liste, una lista di dizionari, si possono fare liste d'insieme, si possono fare dizionari che contengono liste, ciò che vogliamo. Quindi qui ci sono due esercizi che ci permettono di aiutarsi a ragionare in questo senso e poi vedremo che nei vari esercizi d'esame non ci sarà mai scritto fai una lista, fai un dizionario, come a volte era scritto invece negli esercizi del laboratorio o era quasi sottinteso negli esercizi del laboratorio visto che era relativo a un certo capitolo. ma saremo noi che dovremo inventarci, trovare quello che è la combinazione, la struttura dati o la combinazione di strutture dati più opportuna per quel esercizio specifico. Quindi di fatto dopo che abbiamo letto il testo ci fermeremo un attimo a pensare ma questi dati come li rappresento, cosa mi serve, come li devo leggere, eccetera, eccetera. Andiamo per esempi, perché chiaramente una regola generale non esiste che sia valida in tutti i casi. Facciamo qualche esempio di esercizi. Come sempre io prendo l'esercizio il cui testo è riportato sulle slide, poi le slide lo risolvo in un certo modo, noi invece lo risolviamo in modo interattivo perché così ragioniamo sopra più facilmente. Questo esercizio ci chiede di costruire un indice analitico. Quindi l'indice analitico è quello che voi trovate alla fine del libro. Alla fine del libro ci sarà scritto che un determinato concetto che è presente nell'indice analitico è presente, non so, alla pagina 20, la pagina 7, la pagina 14 del nostro libro. Il programma che vogliamo costruire deve creare un indice analitico di questo genere conoscendo, partendo dai riferimenti dei concetti presenti nelle singole pagine. Quindi noi abbiamo in partenza un file di testo di questo tipo. Ops, cosa ho fatto? Un file di testo di questo tipo. in cui ho il numero di pagina e il concetto che compare in quella pagina. Il numero di pagina e il concetto che compare in questa pagina. Quindi è un file ordinato in cui le informazioni sono sono ordinate per valore crescente del numero di pagina e in ciascuna pagina può esserci ad esempio in pagina 6 c'è un concetto oppure più di un concetto perché in pagina 7 abbiamo tre concetti diversi. Questo è il file di ingresso. Noi cosa dovremmo creare? Dovremmo creare l'indice analitico quindi la rappresentazione inversa che dal concetto ci dice in quali pagine compare. Quindi ad esempio il concetto example in quali pagine compare? E beh, torno indietro nel file c'era scritto che alla pagina 7 compariva example ma anche alla pagina 10 compariva example. Quindi nel mio indice analitico a fianco di example dovrà esserci scritto 7 e 10 come è scritto qua che sono le due pagine in cui questa parola compare. La parola index compare solamente a pagina 7 e quindi nell'indice analitico comparirà solamente il 7 e così via. L'indice analitico è ordinato ovviamente in modo alfabetico dalla A alla Z e ciascun termine dovrà avere a fianco i numeri di pagina crescenti crescenti dallo 0 al 100 delle pagine in cui compare quel termine. questo è il lavoro che dobbiamo fare costruire in output questo file. Il file di partenza questo qua dell'indice analitico riporta qui è specificato bene ogni occorrenza di ciascun termine da includere nell'indice analitico e la pagina in cui questo termine compare. Se un termine compare più di una volta nella stessa pagina l'indice analitico dovrà inserire tale pagina una sola volta. Se invece le pagine sono diverse dovranno essere tutte elencate. Quindi se per caso noi nel file di partenza avessimo che in pagina 10 compare che ne so un gatto cat e poi di nuovo in pagina 10 comparisse di nuovo cat perché magari nel file c'è questa informazione due volte ovviamente poi noi nell'indice analitico dovremmo scrivere solamente cat compare 10 e non ripetiamo due volte il 10. Se però cat comparisse anche alla riga 15 più avanti nell'indice analitico dovremmo scrivere 10,15 quindi non dobbiamo mai può darsi che nel file di partenza ci siano informazioni duplicate cioè lo stesso concetto compare più volte nella stessa pagina ma nel file di uscita invece queste informazioni non devono essere duplicate devono comparire una volta sola. Ok come si conviene organizzare le informazioni per questo tipo di esercizio? Allora il slide ci suggerisce un tipo di organizzazione ma cerchiamo di capire perché. Partiamo dal punto di arrivo. Noi abbiamo dobbiamo creare una cosa di questo genere una cosa di questo genere in cui ci siano dei termini ok e a ciascun termine associato un gruppo di numeri. Quindi questo mi suggerisce una struttura dati di tipo associativo un dizionario un dizionario che mi mappa il termine con i numeri di pagina in cui questo compare. Quindi ipoteticamente penserei a un dizionario un dizionario in cui la chiave siano delle stringhe che contiene il termine cioè che rappresentano i termini. Prima di pensare alle istruzioni per leggere quel file pensiamo a come vogliamo strutturare le informazioni strutturare i dati poi dopo mi preoccupo di come leggerli ok quindi andiamo per ordine andiamo dai concetti verso le istruzioni quindi questa struttura dati si può rappresentare facilmente come un dizionario la cui chiave è il termine e il cui valore sono i numeri i value che sono i numeri sapendo che questi numeri possono essere uno o più di uno che non devono mai essere duplicati e che quando li stampo li dovrò stampare in ordine quindi questi qui possono essere o dei liste o dei set pro e contro in entrambi i casi ok per cui come state discutendo giustamente sulla chat se io li rappresento come lista dovrò farmi carico io programmatore di eliminare i duplicati o di fare attenzione a non inserire nuovi duplicati però li posso ordinare stampare ordinati se invece li memorizzo come set la gestione dei duplicati mi viene in automatico dal fatto che sono degli insiemi vabbè quando li stampo dovrò scrivere sorted per farli saltar fuori in ordine quindi la struttura dati ideale non c'è l'insieme degli numeri che sono ordinati da soli non c'è scegliamo noi quella che si avvicina di più alle nostre esigenze se scelgo una lista è facile ordinarla ma è più complesso per noi mantenere l'unicità dei valori se scegliamo l'insieme l'unicità dei valori ci viene gratis ma l'ordinamento dobbiamo farlo a mano non è che sia una grande differenza l'una oppure l'altra e probabilmente molti di noi sceglieranno una cosa oppure l'altra a me sembra più comodo far risolvere il problema più diciamo concettualmente algoritmicamente più difficile che quello dei duplicati io lo farei risolvere al python e mi risolvo a mano il problema estetico e quello di metterli in ordine quindi sceglierei ma anche perché c'è già sulle slide una rappresentazione a insiemi insiemi di che cosa insiemi di numeri interi che sono i numeri di pagina interi e non stringhe perché io quando poi li voglio stampare in ordine devo essere in ordine numerico crescente se mi dimentico di convertirli in interi li memorizzo come stringhe poi mi viene che l'undici viene stampato prima del due perché verrebbero diciamo così stampati in ordine alfabetico questo è quindi ciò che vogliamo costruire quindi la rappresentazione nel programma dell'indici in ordine alfabetico che stiamo costruendo sarà qualcosa di questo genere un dizionario che mappa che qui è chiamato entries che mappa i vari termini su degli insiemi e questi insiemi contengono i numeri di pagina corrispondenti quindi se questa è l'idea che ho in mente io a questo punto e se mi convinco che questa rappresentazione rappresenta fedelmente i dati che mi interessano dove come dicevamo le chiavi sono i termini e i valori sono gli insiemi dizionario da chiave valore ricordiamocelo sempre che funziona così allora a questo punto risolvo due problemi separati cioè dal file 1 costruisco leggo e costruisco questa struttura dati e poi il secondo problema è quindi devo leggere read e poi invece il file 2 lo dovrò scrivere a partire da questa struttura dati ma a questo punto diventa due problemi separati il mio punto centrale è questa rappresentazione dei dati adesso mi preoccupo di come leggere da file e popolare questa struttura dati che lei nasce vuota finché non leggo i dati dal file quando ho finito questo leggerò questa struttura dati e creerò il file di uscita ok allora proviamo a mettere in pratica questo ragionamento prendendo il nostro PyCharm io qui ho copiato dentro questo file index data che contiene già contiene già credo che siano esattamente gli stessi valori della slide e creiamo il nostro programma indice analitico punto Python risoluzione indice analitico allora questo abbiamo detto che si centra su questa struttura dati centrale che è un dizionario di liste quindi memorizziamo i dati in un dizionario scusate un dizionario di insiemi lasciamo qua come commento così ce lo ricordiamo leggo il file stampo il file quindi il mio main sarà banale perché di fatto farò un'operazione di entries chiamo entries perché è il valore il nome della variabile che c'era sulle slide leggi file e poi scriverò scrivi file scrivi indice chiamiamola leggi termini e poi scrivi indice indice analitico entries quindi quei due passi leggo dal file e costruisco la struttura dati e poi prendo la struttura dati e creo un file di destinazione li traduco direttamente in codice o pseudo codice perché per ora queste funzioni non sono definite ma le possiamo definire al momento questa sarà la struttura generale del mio programma adesso la lettura e la scrittura saranno fatte di file il testo che c'era sulle slide non era dettagliato non ci diceva se i nomi di questi file devono essere inseriti da tastiera oppure altro allora noi supponiamo che siano dei nomi costanti quindi file termini si chiama index data punto txt e file diciamo così dell'indice analitico lo chiamiamo analitico punto txt e quindi a questo punto ci concentriamo su ciascuna di queste due funzioni giusto per eliminare questi questi cosi rossi definiamo le funzioni vuote def leggi termini che non fa nulla e l'altra def scrivi indice che non fa nulla per il momento e poi le riempiremo tra parentesi qua ci metto entries che è il parametro che gli serve a questo punto possiamo pensare che le singole funzioni ma lo decidiamo noi siano loro responsabili di gestire il file quindi lo aprono lo leggono e lo chiudono oppure lo aprono ci scrivono e lo chiudono oppure potremmo decidere che i file vengono aperti o chiusi direttamente dal programma main sono scelte non c'è una regola o una legge che preferisca l'una oppure l'altra come buona norma però sarebbe bene che la funzione che fa open faccia anche close così siamo sicuri che l'open e il close sono ben appaiate e non rischiamo di dimenticarcela quindi se io apro il file dentro leggi termini lo chiuderò dentro leggi termini se lo apro dentro il main lo chiuderò dentro il main ok qua ad esempio possiamo pensare per non toccare il main che abbiamo già scritto possiamo pensare di aprire e chiudere il file direttamente dentro la funzione quindi qui abbiamo il file in lettura chiamiamolo in file apro il file dei termini in lettura e poi alla fine comincio a scrivere in file.close e questa funzione dovrà leggere questo file analizzare le righe di testo e poi costruire questa nostra struttura dati questo nostro dizionario di insiemi ogni volta che legge una riga dovrà aggiungere un po' di informazione all'interno di questo dizionario di insiemi quindi questo dizionario viene creato da questa funzione quindi inizialmente questo creerà un entry diciamo così per continuare a chiamarlo in un stesso modo come dizionario vuoto ok e poi alla fine questa funzione restituirà il dizionario al chiamante tutto il lavoro che deve fare è di popolarlo cioè mettere informazioni dentro il dizionario e questo le prende dalle righe del file quindi tipico ad esempio ciclo for line in file si chiama in file questo due punti leggiamo una per volta le righe del file e queste righe come sono formattate sono formattate con due campi separati da due punti il primo campo dovrebbe essere un numero che rappresenta il numero di pagine il secondo campo è una stringa che rappresenta il termine ok allora leggiamo una riga per volta questa riga togliamo il carattere di a capo finale che c'è ma non si vede separiamola su due punti e separiamola su due punti e poi usiamo diversamente i due campi quindi leggiamo una linea togliamo la capo rstrip dividiamo in corrispondenza da due punti quindi split al carattere di due punti e adesso abbiamo una lista una lista che contiene due string ok quindi campi uguale questa lista saranno due campi campi di 0 campi di 1 campi di 0 sarà il numero di pagina è il numero di pagina sarà campi di 0 il primo campo ovviamente convertito in intero quindi lo porto in numero il prima possibile mi scappate un asterisco e il termine invece sarà campi di 1 uguale campi di 1 quindi ho estratto da ogni riga queste due informazioni adesso dobbiamo aggiungere questa informazione dentro la nostra struttura dati la rimetto come disegno può darsi noi abbiamo letto un termine il primo termine che compare nel file è type ad esempio allora io avrò type e possono esserci due casi o type c'è già nel dizionario oppure non c'è ancora se non c'è ancora lo devo creare devo aggiungere uno nuovo un nuovo elemento al dizionario se invece c'è già vabbè devo semplicemente devo crearlo ovviamente con un insieme che conterrà solamente un numero cioè il numero di pagina il cui compare type in questo momento se invece c'è già allora dovrò andare cercarlo trovarlo e quando l'ho trovato vado ad aggiungere il numero di pagina all'insieme che era già stato creato la prima volta che l'ho visto ok allora questo vuol dire che devo controllare se il termine è presente nel dizionario entries ricordiamoci l'in lavora nei dizionari come sugli insiemi cioè lavora sulla chiave sulla mente non sui valori quindi io posso verificare se un determinato termine in questo caso è presente tra le chiavi del dizionario se se qualcuno mi chiedesse qualcosa riguardo i valori non lo posso fare in un'istruzione solo dovrei andare a prendere iterare uno per uno sulle chiavi e trovare i valori corrispondenti ma sulle chiavi è molto più facile quindi se il termine c'è già allora devo quindi c'è già e quindi aggiungo la pagina al set esistente al set già esistente e il set cos'è? il set non è altro che il valore corrispondente a quel termine quindi entries di termine entries è il dizionario termine è la singola chiave entries di termine fa accesso al dizionario quindi rappresenta il valore cioè l'insieme lo abbiamo creato cioè abbiamo riferimento a questo insieme a questo insieme che dobbiamo fare dobbiamo aggiungere il numero di pagina altrimenti altrimenti la prima volta è la prima volta che vedo il termine devo creare la nuova entry allora in questo caso dovrò creare una nuova voce all'interno di un dizionario come si fa? si fa con l'uguale entries a differenza della lista in cui uso append per aggiungere elementi o dell'insieme in cui uso add su un dizionario uso l'uguale assegno un valore ad una chiave che prima non esisteva entry di termine assegno a qualcuno una chiave che ho appena verificato che non esiste quindi sto aggiungendo nelle chiavi questo termine che ho appena letto e il valore che cosa sarà? sarà un insieme che è composto solamente dal numero di pagina singolo da solo quindi crea un insieme di un elemento solo che è il numero di pagina con cui ho appena letto questo file ho appena letto questa riga e basta essenzialmente nel senso che man mano che vado avanti nel file finché ci sono dati qui non sto facendo come avete notato non sto ancora facendo nessun controllo dell'errore ok? non ho try eccetera eccetera mi sto concentrando sull'algoritmo poi una volta che l'algoritmo funziona andiamo ad aggiungere anche i controlli dell'errore sull'apertura del file sulla conversione dei campi eccetera eccetera però non facciamoci distrarre da operazioni diciamo così di dettaglio mentre siamo concentrati sull'algoritmo principale e alla fine restituisco questo dizionario allora adesso lo voglio provare a vedere se funziona ma prima devo rispondere a due domande che mi avete fatto uno di Andrea che mi dice allora il dizionario lo stiamo creando in questa funzione sì lo sto creando qua e quindi questa funzione legge termine non solo legge ma crea da zero un dizionario lo riempie e mi restituisce un dizionario pieno questo è un modo l'altro modo sarebbe che il main creasse il dizionario vuoto e poi lo passasse a questa funzione che pensa solamente a riempirla mi trovo più comodo crearlo qua direttamente perché almeno so cosa sto creando l'unico caso in cui mi verrebbe più sensato far creare la struttura dati al main è quando questa struttura dati dovesse essere riempita in momenti diversi da funzioni diverse allora chiamo una funzione e ci aggiunge un po' di roba poi una seconda funzione aggiunge altre informazioni e così via allora nessuna di queste funzioni lo deve creare da zero ciascuna dovrà aggiungere un pezzo a una cosa che esiste già ma non è questo il caso qui devo crearlo da zero leggendo un file e quindi ogni volta che chiamo questa funzione lei sta creando un dizionario nuovo la seconda domanda è quella di Suavo che mi dice qua potremmo anche non mettere le graffe no queste sono le graffe perché è un insieme che contiene un elemento che è un intero se io avessi dimenticato queste graffe avrei creato un valore che è un numero intero un numero intero e non un insieme che contiene un intero vuol dire che io avrei scritto qua sei direttamente come valore e non avrei creato un insieme che adesso contiene sei ma poi dopo potrà contenere altra roba e allora all'interazione successiva quando io avessi cercato di fare add a questo elemento Python mi avrebbe detto no caro guarda che sei è un intero non puoi fare add su un intero add lo fai sugli insiemi ok quindi nonostante contenga un elemento solo guardate questo sette qua questo sette è un numero solo ma abbiamo costruito comunque un insieme che contiene il numero che contiene un elemento solo ok non confondiamo mai il tipo di dato che è un insieme rispetto a quante cose contiene contiene in quel momento dobbiamo sempre pensare a quante cose può contenere no? in generale ok vediamo se questa cosa qua è corretta e quindi prima di chiamare scrivi indice che per ora non fa ancora nulla mettiamoci una bella print entries e così vediamo che cosa ci da allora facciamo un run ci da niente perché non ho chiamato il main questo è un modo sicuro per non avere degli errori non chiamare il programma ok ci dice type 8 6 example 10 7 index 7 program 11 7 set 20 mettiamo l'index data vediamo se quadra type era 8 6 quindi nel 6 sì nell'8 anche vedete il set che quasi per farci dispetto ha disordinato i dati rispetto all'ordine con cui li abbiamo inseriti example 10 7 10 sì sembra giusto ok se noi facessimo delle operazioni come detto ad esempio 7 program lo mettessimo una seconda volta sotto ricordate che abbiamo detto se per caso lo stesso termine comparisse più di una volta nella stessa pagina non cambia nulla ovviamente perché il set non si fa spaventare dei duplicati ok quindi questa è la creazione della struttura dati questa è la parte facile separo i campi parte diciamo meccanica questa è la parte intelligente cioè una volta che ho i dati cosa ci faccio creo un nuovo elemento nel dizionario il cui chiave è il termine e il cui valore è un insieme di un elemento solo oppure l'elemento c'è già e quindi prendo questo insieme questa parte qua evidenziata è l'insieme valore che ho ottenuto indicizzando il dizionario usando la chiave e a questo insieme chiamo il metodo add per aggiungere un nuovo elemento a quell'insieme là e qui abbiamo fatto il corso del lavoro tutto sommato perché da adesso in poi dobbiamo semplicemente prendere questa struttura dati nella seconda funzione scrivi indice e creare il file di uscita che contenga i dati formattati come ci chiede il testo quindi apriamo qui scriviamo dentro scrivi indice apriamo devo aprire il file quindi outfile uguale open del file che si chiama file indice in modalità scrittura e prima di dimenticarmelo faccio il close e all'interno di questo file devo stampare dove è andata quella slide questa qua devo stampare i vari termini allora devo stampare una riga per ogni termine quindi per ogni chiave del dizionario però queste qui le devo stampare in ordine in ordine alfabetico ok quindi devo fare un ciclo in cui itero sulle chiavi del dizionario ordinate in ordine alfabetico quindi for termine in sorted di del dizionario che è entries per vedere cosa fa vediamo se è giusto io non sono sicuro al 100% di quello che ho fatto allora scriviamo subito una print qua senza stamparla sul file semplicemente a video per vedere che faccia la cosa giusta ok esempio quindi qui vediamo in questa output di queste 5 righe stampate che questo ciclo for viene eseguito con termine che assume ogni volta il valore della chiave ricordiamoci quando noi iteriamo su un dizionario for in su un dizionario normalmente stiamo iterando sulle chiavi se volessimo avere anche i valori dietro dobbiamo iterare su una tupla avere come variabile di controllo una tupla e poi prima cosa quindi stiamo iterando sulle chiavi e poi queste chiavi ci vengono presentate in ordine alfabetico grazie al fatto che questa lista di chiavi l'abbiamo ordinata prima di usarla come diciamo così base come sequenza su cui stiamo iterando Angelo mi chiede in base a che cosa vogliamo ordinare il dizionario allora innanzitutto non stiamo ordinando il dizionario ma stiamo ordinando le chiavi del dizionario e le stiamo ordinando e le chiavi del dizionario sono stringhe e quindi si ordinano in modo alfabetico se le chiavi del dizionario fossero numeri si ordinerebbero in ordine numerico ok quando facciamo questa operazione stiamo ordinando le chiavi del dizionario non le entri del dizionario già che ci sono rispondo anche alle domande di Beatrice che mi chiede se al posto delle parentesi graffe che evidentemente non piacciono a nessuno se avessi potuto scrivere set di numero di pagine così al posto dell'altro ovviamente sì è assolutamente equivalente dovrebbe essere assolutamente equivalente se non è vero proviamolo perché qualcuno dice che non funziona ah sì certo ok dovrei fare così costruire una lista che contiene un elemento e poi trasformare quella lista in un insieme perché purtroppo set ha bisogno di una sequenza per poter costruire un insieme costruisce un insieme a partire da una sequenza recitata così la definizione è facile poi nella pratica magari uno si dimentica quindi devo costruire una sequenza anche solo di un elemento è una sequenza cos'è? ad esempio una lista e poi convertire questa sequenza in insieme e quindi così funzionerebbe però forse è un po' pesante cioè pesante da leggere l'alternativa sarebbe anche questa qua ad esempio costruisco un insieme vuoto e ci aggiungo subito il numero di pagine no non va bene scusate dovrei farlo così in due istruzioni costruisco un insieme vuoto e poi ci aggiungo il numero di pagina e in questo caso funziona identico prima e addirittura vorrebbe dire che in realtà questa parte qua di aggiungere il numero di pagina è una parte comune e potrebbe anche portare fuori dall'if e allora l'if conterrà solamente più la creazione dell'insieme sono modi diversi di creare la stessa cosa ok abbiamo anche visto questa stranezza del set in cui per creare un set di un elemento non posso usare il set dell'elemento stesso ecco questo è un tipico dettaglio che chiaramente in serie dell'esame potendo compilarlo verificate evitate questo problema ma anche se ci fosse questo problema nell'esame è veramente un dettaglio di sintassi che non è grave da questo punto di vista sono quei tipici errori che magari rendono il programma non compilabile ma logicamente non valgono nulla cioè non danno non sono errori di algoritmo o di ragionamento quindi questi vengono contati molto poco quindi attenzione che la valutazione o la severità con cui noi diciamo così ragioniamo sui programmi che consegnate non è quella del compilatore che se tutto è giusto ve lo fa partire se non ci sono errori di sintassi invece se è un errore anche banale ve lo blocca del tutto ok noi cerchiamo di ragionare sul codice che avete scritto non è un esame del tipo gira non gira funziona non funziona ok ok quindi torniamo giù stavamo scrivendo l'insieme dei termini c'è un problema di Alida che dice che non riesce a prendere il secondo campo campi di uno l'ho fatto qua quando prendo il termine non termini di uno ma campi di uno ok perché io la riga era divisa in questo modo quindi se campi di uno dà diciamo così un errore probabilmente lo split non ha funzionato bene o non era sui due punti oppure non bisognerebbe vedere la cosa più semplice mettere una print direttamente qua dopo la riga 14 fammi vedere che cosa ha tirato fuori la split perché se campi di uno è un errore vediamo cosa c'è dentro campi e facciamocelo vedere ammesso che nel frattempo non abbiate già risolto il problema Andrea mi dice sorte di termine da problemi sorte di termine attenzione che termine per come l'abbiamo usato è una stringa che contiene un singolo termine perché se io faccio sorte di termine lui mi mette in ordine alfabetico le lettere della parola non c'entra nulla termine è la variabile se siamo qua la variabile di controllo di questo ciclo che assume via via i valori delle chiavi del dizionario questo sorte di qua fa semplicemente sì che le chiavi mi vengano presentate in ordine alfabetico anziché in ordine casuale questo termine a sua volta non ha senso ordinarlo è una sola parola adesso ok la domanda di Giulia è difficile rispondere così al volo perché bisognerebbe vedere il codice ma essenzialmente fate attenzione a quando perché mi chiedi se insieme faccio discarde degli elementi man mano che li analizzo può generare perché genera un errore ecco il problema è che fate sempre attenzione se state cercando di modificare una struttura dati insieme una lista mentre la state iterando quindi mentre state iterando se state cancellando gli elementi sulla stessa struttura che state iterando questo può dare dei problemi perché lui calcola le iterazioni prima che voi cancellate gli elementi e poi a metà si cerca un elemento che non c'è più però per rispondere più nel merito dovremmo Giulia vedere un frammento di codice effettivo e ci ragioniamo sopra la regola generale è se sto iterando soprattutto con un ciclo for for in su una struttura dati allora prometto che quella struttura dati non la modifico dentro il ciclo di quell'iterazione così evito problemi se la voglio davvero modificare allora uso un ciclo while normale in cui esplicitamente vado a testare ogni volta se sono arrivato in fondo oppure no e mi gestisco esplicitamente l'indice degli elementi cosa che con la lista si può fare col set non si può fare perché il set non si può navigare per indice e quindi però dipende appunto dal punto specifico in cui stiamo cercando di fare questa cosa ok adesso dobbiamo stampare su file Simone mi suggerisce cosa fare e io provo a scriverlo quindi così se non funziona è colpa sua faccio copia e incolla da ciò che c'è nella quindi chiave entres di chiave qui lui l'ha chiamato chiave l'ho chiamato termine ma faccio in fretta a sostituirlo e quindi lui stampa lui ma anche io adesso perché ho adottato questa istruzione su ogni riga il termine e poi questo entres di termine mi permette di mettere uno spazio allora funzionicherebbe secondo me funziona quasi questa print la print che abbiamo messo sopra e quindi possiamo anche eliminarla nel main perché non dà il formato perfetto perché a questo punto l'ince analitico salterebbe fuori così con queste con due problemi parentesi graffe che sono brutte da vedere e e numeri non in ordine crescente quindi purtroppo graffa 10,7 quando dovrei vedere 7,10 senza graffe e allora mi dispiace mi devo rimboccare le maniche fino a qui va bene e poi sul resta quindi posso scrivere il termine due punti non vado ancora a capo vedete qui non ho messo il carattere di a capo e le pagine le scriverò una dopo l'altra ad esempio potrò crearle come allora entries di termine è giusto è l'insieme ok io questo insieme devo innanzitutto ordinarlo che ovviamente verrà trasformato in una lista e poi dalla lista devo diciamo così costruire le singole parole concatenandole con la virgola quindi ci vorrebbe un piccolo ciclo oppure join quindi termine è la chiave entries di termine è il set il set dei numeri sorted è il set dei numeri ordinato in modo crescente quindi è una lista di numeri qua a questo punto qui ho una lista di numeri e se ho una lista di numeri posso fare non è vero no non posso fare join perché join vuole delle stringhe come non detto magari questi sono numeri non sono stringhe quindi vabbè allora ho i numeri da stampare sono qua e li stamperò uno dopo l'altro con un piccolo ciclo e quindi a questo punto for n in numeri farò stamperò dunque devo fare attenzione alla virgola la solita rogna che la prima volta non devo stampare la virgola allora per ogni valore se non è la prima volta allora stampa anche la virgola virgola spazio poi in ogni caso stampa il numero e poi metti prima forse e alla fine vai a capo può essere e quindi la virgola la metto solamente dal secondo elemento in poi vediamo un po' se funziona ovviamente no perché write ha bisogno di una stringa non è come print che si fa la conversione da sola write è più pignola e mi ha generato l'indice analitico fatto così che questa volta mi piace quindi questo è il codice finale dove maledizione all'estetica abbiamo dovuto spendere quasi più righe per semplicemente stampare in modo corretto con le virgole per sequenze di numeri che non per tutto il resto dell'algoritmo del programma sto guardando il codice che ha scritto Maria Chiara nella chat proviamo magari lo incollo qua così lo vediamo tutti che mi dice puoi fare sorte di entice punto item chiave sorte di valore questo qua è il problema che però ti stampa un punto in virgola anche dopo l'ultimo elemento mentre invece noi non dobbiamo fare quindi c'è questo caso particolare che ti costa due istruzioni due righe in più essenzialmente ok allora fatto questo direi che questo esercizio sembra completato c'era qualcuno che diceva attenzione che allora potevamo usare delle liste Andrea un attimo fa diceva nelle liste se avessimo delle liste avremmo risolto tutti i problemi mi dice Andrea perché non ci sarà mai due volte la stessa pagina per la stessa chiave questo è tutto da vedere nel senso che noi avevamo proprio ho aggiunto apposta per cattiveria una chiave duplicata qua sotto e tra l'altro ho aggiunto una chiave con un numero di pagina diverso scusate non crescente diverso è ovvio ma non crescente sono tornato indietro allora fatto con le liste si può fare però io devo essere sicuro o meglio devo avere l'informazione se il file di partenza ha o non ha due proprietà cioè è ordinato per numero di pagina sembra di sì tranne l'ultimo che ho aggiunto io per cattiveria allora mi dicono che il file è ordinato per numero di pagina benissimo allora vuol dire che quando faccio append i numeri saranno sempre crescenti ma se per caso questo file non fosse ordinato per numero di pagina ma potessero comparire le righe in qualunque ordine devo fare attenzione perché è vero che posso fare append ma poi devo ricordarmi di fare un giro di sort a tutti per mantenerli in ordine primo secondo se c'è il rischio che ci siano dei duplicati dei termini duplicati allora ogni volta che devo fare un append devo prima controllare che l'elemento non ci sia allora di sicuro la seconda proprietà la seconda proprietà non c'è perché nelle slide che era la nostra specifica mi dicevano proprio no vedi qua vedi se riesco a scrivere e non cambiare slide se un termine compare più di una volta nella stessa pagina quindi è previsto che questo capiti anche se nel file non c'era prima che io aggiungessi la riga per cattiveria ma era previsto che capitasse questo allora almeno questo devi dover tenere conto e in più qui ci dice il file riporta ogni occorrenza di ciascun termine bla 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 ma non ci dice in che ordine e se non dice in che ordine non posso io dare per scontato che sia in ordine numerico crescente in ordine di pagina crescente può esserlo può non esserlo ok allora anche in funzione di queste piccole cose magari uno sceglie liste al posto di insieme ma poi si poteva fare benissimo con le liste assolutamente dava più problemi da una parte meno problemi dall'altra sono sempre sono sempre sempre scelte di compromesso Roberto mi dice anche si potrebbero convertire i numeri in interi immagino che volessi dire in string e poi si ragione si si certo si potremmo anche usare ti riferisci sicuramente a questa parte di codice dove io sono riuscito a trattenermi dal dire parolacce perché sembrava finito il programma invece ci abbiamo dovuto aggiungere tutto questo pezzo dici ma se io anziché fare tutto questo facessi però avessi dovuto comunque fare un ciclo in cui convertire numeri da lista di interi a lista di string e poi fare sort poi fare la join si poteva fare ma alla fine forse risparmiavamo due righe ma sicuramente risparmiavamo un po' di ragionamento sul caso particolare della virgola eccetera questa cosa qua antipatica della virgola che deve essere tra gli elementi non prima del primo non dopo l'ultimo dà sempre un po' di fatica in più quindi sicuramente si poteva fare ad esempio in questo modo qua scriviamolo così lo condividiamo per bene avrei potuto fare una lista numeri sotto forma di stringa semplicemente riempiendola quindi da numeri da n in numeri avrei semplicemente aggiunto dentro numeri s append strdn e a questo punto potevo fare facilmente outfile punto write di virgola quindi virgola spazio punto join di numeri quello che ha le stringhe numeri s se faccio questo e tolgo sta roba qua e ci aggiungo un barren in fondo dovrebbe darmi la stessa cosa e infatti mi da la stessa cosa quindi è un altro dei 280 modi di fare la stessa la stessa operazione ok qui abbiamo chiuso questo esercizio questo esercizio relativamente breve 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 come lunghezza di codice perché abbiamo per due motivi uno siamo stati fortunati perché eravamo già guidati nella scelta della struttura dati che ci ha semplificato il lavoro due perché manca tutta la parte di gestione dell'errore quindi dovendolo completare qualche istruzione in più qua e là dobbiamo aggiungerla però come vedete siamo sulla cinquantina di istruzioni in totale i temi di esame non sono molto più complicati di questo un po' ma non molto ok il prossimo esercizio da fare ma che ovviamente per via dell'orario non facciamo oggi è questo sulle vendite dei gelati se volete cominciare a dargli un'occhiata io vi posso mentre creo i file da mettere a disposizione per questo esercizio vi do già anche direttamente una cartella che si chiama gelati con dentro questo file con cui lavoreremo e domani possiamo partire a risolvere questo che è un esercizio abbastanza classico in cui abbiamo dei dati tabellari non tabulari tante righe ogni riga ha un certo numero di campi e dobbiamo lavorare per righe e per campi moltissimi esercizi hanno questa struttura questo è molto semplice ancora introduttivo ma poi vedrete che molti di quelli dell'esame seguono questo tipo di impostazione quindi domani partiamo da questo e poi andiamo avanti a fare alcuni degli esercizi che abbiamo proposto come esame io per adesso vi saluto come al solito e tra qualche momento vi pubblico questi file così li potete anche guardare e ci vediamo domani per fare altri po' di esercizi grazie a tutti se avete altre domande vi aspetto ancora in chat buona serata grazie a tutti